I suoi quadri sono esposti nelle case più chic di Londra e New York, eppure Puccetto, il pittore e poeta di Tutino, non si è mai mosso dal suo casello ferroviario alle porte di Tricase. Ogni giorno, per 30 lunghissimi anni, Antonio Rocco d'Aversa ha abbassato e alzato le sbarre di questo passaggio a livello. Tra un treno e l'altro, Puccetto ha coltivato la sua grande passione, la pittura. Ha dipinto, o come dice lui, ha imbrattato migliaia di tele, alcune delle quali fanno bella mostra nelle abitazioni di VIP come Al Pacino e Meryl Streep. Due mesi fa la doccia fredda, le ferrovie del sud-est decidono di automatizzare il passaggio a livello. Il telecontrollo sostituisce le braccia e Puccetto deve lasciare il suo casello museo. Pur di non abbandonare quel rifugio, fonte di ispirazione, laboratorio di idee, l'artista, con i pochi risparmi che ha a disposizione, prende in affitto una stanza del vecchio casello ferroviario. Non abbandonerà mai questa struttura? Assolutissimamente, la potranno murare, potranno fare tutto quello che... Io, anche se dovrò venire ad imbrattare nel giardino, purché imbratti, purché l'ora, quella mezz'ora, ti senti un padre eterno. Nelle scorse settimane, l'attrice Ellen Mirren e il regista Taylor Hickford hanno lanciato un appello affinché il demanio regionale conceda incomodato d'uso il casello a Puccetto. Ora scende in campo anche il comune di Tricase. Il binomio Puccetto-Casello, insomma, non si può dividere.